Assessore Rosatelli, siamo qui al Divan Queer Film Festival all'indomani della giornata della visibilità trans. Questo festival vede il patrocinio della città di Torino. È un'occasione culturale importante per Torino e Torino come si pone rispetto ai diritti delle persone LGBT? Sì, è senz'altro un'occasione importante. Questo è un festival che ha già una storia e che è bello che continui. È un festival che nasce dal basso ed è in un posto molto bello come qui in Via Baltea. Torino è una città che è da sempre all'avanguardia come città dei diritti. Vogliamo continuare ad esserlo. C'è stata una battuta d'arresto sulla questione dell'iscrizione dei figli delle coppie omogenitoriali, ma noi vogliamo dare battaglia a livello nazionale. Vogliamo che il Parlamento faccia finalmente una legge per dare diritti a questi bambini e alle loro famiglie. Quindi Torino sarà sempre dalla parte dei diritti e sarà sempre al fianco delle persone LGBTQ nelle loro rivendicazioni. Grazie. Prego, grazie a voi.